Ciao a tutti, nuovo blogmas della nostra eroina di Milano, un blogmas numero 20 intitolato La nostra cena della vigilia di Natale, ecco dove siamo stati, e si apre questo blogmas con lei seduta in macchina, praticamente, che ci informa che è il 24, che il marito è andato a prendere le sigarette e che incredibilmente piove. Se nevicava, probabilmente lei avrebbe pensato di trovarsi ai confini della realtà. Ricordando a Chiara che comunque siamo a dicembre, comunque è anche normale che piova, insomma, che faccia questo tempo un po' così, andiamo avanti con il blogmas. Lei dice che è un certo langurino, ci chiede se ci piace il rossetto, ma ormai è andato, perché evidentemente si è messa la mascherina, quindi di rossetto non ce n'è più traccia. E niente, ci dice se ci piace l'acconciatura che ha, praticamente ha questi capelli lisci, e praticamente raccolte sulla nuca con una codina dalla parte di dietro, ovviamente. E gli altri capelli appaiono sciolti sulle spalle, quindi. E niente, la ritroviamo che è seduta ad una tavolata, praticamente con un piatto di patatine fritte davanti, dopodiché inquadra un piatto di cozze, evidentemente sono al kebab, insomma, del cognato di Davide. Dopo un po', appunto, vediamo Davide, praticamente, che è abbracciato con un signore dalla faccia, devo dire, molto simpatica, dovrebbe essere praticamente suo cognato, insomma. Poi, vabbè, ci fa vedere i piatti che le arrivano, è arrivato un piatto di risotto che stranamente non galleggia nella sua acqua, e si sente Davide che chiede a gran voce una bottiglia di Coca-Cola, e niente, a un certo punto lei inquadra, praticamente, le persone che sono in tavola con lei, e inquadra un, vabbè, un signore, non so chi sia, con l'evidentemente compagna, poi inquadra la sorella di Davide, e niente, sappiamo, praticamente, che stanno passando la vigilia con queste persone, e in più ci dovrebbe essere anche Dennis, che penso sia il figlio della sorella di Davide, che però non si sa dove sta, insomma. La rivediamo il giorno dopo, praticamente sono le otto e mezza, lei è vicino all'albero rosa, dice che sono stati in compagnia, che si sono divertiti, che sono rientrati alle undici e mezza, insomma, si complimenta con la sua macchina, quella per stirare i capelli, praticamente, perché comunque ha fatto il suo dovere in maniera eccellente, almeno così dice lei, ci informa che si è struccata e lavata la faccia, e che però le sono rimasti dei segni, in effetti questi segni li vedo anch'io, dice che tornerà a lavarsi il viso per colpa, appunto, di questi segni che sono rimasti dopo che lei si è struccata, insomma, ci dice anche che vuole accendere l'albero per, diciamo, ritrovare la magia del Natale, e niente, evidentemente accende questo albero. Spera per noi che abbiamo passato delle buone feste, ci informa che il caffè al marito lo farà dopo, perché il marito praticamente sta a dormire, sta a riposare perché si è stancato, e comincia a fare le inquadrature, praticamente, della, come la posso chiamare, del salone, diciamo, del salotto, ecco. Inizia innanzitutto con la mensola sopra il cammino, che le deve piacere tantissimo, perché indugia tanto su questo cammino, dove ci sono casette, dove ci sono, c'è la ghirlanda, a mo' di peli di albero di Natale, non so come dirlo, insomma. Dopodiché ci sono le famose, i famosi portacandele, che sembrano le coppe Cobram, non so, quelle che abbiamo visto, che sono verdi, colorore e quant'altro, lei sopra questa candela, sopra questo portacandela, non ci ha messo nulla, io ci vedrei bene una bella candela rossa, tanto a sto punto, cioè una bella candela rossa tonda, che non sia di dimensioni eccessive, insomma, ma lei l'ha voluto lasciare così, e vabbè, tanto alla fine, non è che sarebbe migliorata tantissimo, quella candela, però. evidentemente questo portacandele, le piace talmente tanto, perché vicino ad un, vicino davanti ad uno di questi due portacandele, c'era uno schiaccianoci, e lei lo toglie proprio, per farci vedere questa candela, in tutta la sua fulgida bellezza, e continua a mostrarci le cose, che stanno sopra questa menzola, la cosa bella è che parte da una, diciamo da un'estremità, e si fa tutta, diciamo la mensola, fino all'altra estremità, e poi ricomincia. Io ho pensato, sarà questo il famoso home tour, perché insomma su questa menzola, ci stanno delle casette, evidentemente lei, diciamo, pensa che questo sia l'home tour, cioè ci fa vedere più volte queste casette, non so a che pro, insomma, l'abbiamo visto una volta, passa oltre, cioè non è che ce la dobbiamo imparare a memoria, diciamo. Poi l'inquadratura passa all'albero rosa, praticamente questo albero rosa, che già l'ho detto, però con le luci accese a un certo punto, oltre che quando le luci sono spente, è effettivamente rosa, quando le luci sono accese, sembra, scusate, arancione, quindi a me sinceramente non piace, però oddio. Sposta, si sposta sulla mensola, che è vicino al tiragraffi dei gatti, non so se sapete quella mensola, sotto c'è il calorifero, dove ha allestito un mini villaggio di Babbo Natale, mini non per me, perché è anche abbastanza pieno, questo villaggio di Babbo Natale, su una mensola sola, insomma, ci sono abbastanza casette, però per la sua idea, diciamo, di villaggio di Babbo Natale, sicuramente è mini. Dopodiché, c'è il gatto, che praticamente, è sul suo tiragraffi, che presumibilmente dorme, o si finge svenuto, per non guardare ciò che accade, insomma, non si sa, lei la inquadra, e dopodiché la carezza pure. Il gatto si sveglia, o comunque, insomma, la guarda, si gira e la guarda, un po' stizzita della serie, lasciami in pace, lasciami dormire, lasciami far finta che sia tutto normale. Dopodiché, ci mostra il centrotavola, come ha fatto il centrotavola? Il centrotavola, non so se vi ricordate prima, l'aveva fatto con un alberello di Natale, con le palline rosa, un alberello piccino, insomma, con le palline rosa, che si accende, si accende con delle luci fredde, e lei di questo si rammarica, perché avrebbe avvoluto delle luci calde, però, insomma, si accontenta, e ci aveva messo, praticamente, quel tappeto peloso, col buco al centro, che poi altro non era, che un tappeto che si mette, praticamente, per nascondere la base degli alberi di Natale, e lei invece l'aveva usato come centrotavola, diciamo, con questo albero in mezzo. Invece adesso cosa ha fatto? Ha preso un piatto, che sembra un portafrutta, un portabicchino, insomma, comunque un piatto bianco, praticamente con i bordi tipo merletto, e sopra questo piatto, diciamo, ci ha appoggiato questo albero di Natale, ci ha appoggiato intorno delle pigne, dei fiori color rosa glitterati, perché se non c'è rosa non è Natale, e insomma ci fa vedere questo alberello. Dopodiché la ritroviamo con una carta per pacchi davanti, e lei dice che deve impacchettare due regali, che ha preso, oltre quelli che aveva già impacchettato, e creduto il posto sotto l'albero, insomma, per fare due regali inaspettati, al marito e alla mamma. E approfitta di questo momento, che lei è sola, praticamente, perché la mamma pare che stia con le cuffie a fare, come dice lei, i pettegolezzi, mentre il marito si sta riposando. Io sinceramente non ho capito se questo riposino che dice lei è collegato con quello di prima, quindi un unico riposino, o si è svegliato, ha fatto qualcosa, e poi torna ad affarsi un riposino. Comunque, intanto quello è, cioè praticamente si sta facendo il riposino. Dopodiché ci dice, praticamente, che ci fa gli auguri, che possiamo, insomma, trovare la pace, la serenità, insomma, gli auguri di circostanza che tutti quanti a Natale, insomma, ci facciamo. E qui si chiude il suo Vlogmas. E niente, io, per carità, cioè, io sono contenta, prima cosa, sono contenta che lei, e qui lo dico veramente senza nessuna, nessuna ironia, diciamo, sono contenta per lei che abbia passato insieme ad alcuni componenti della famiglia questa vigilia di Natale, diciamo, anche se, secondo me, cioè, siccome i suoi parenti, quindi la sorella di Davide e il marito della sorella di Davide avevano lavorato, perché, insomma, se stavano al kebab, io suppongo che abbiano lavorato, insomma, anche perché c'era il figlio che stava ancora facendo qualcosa, insomma, sarebbe stato magari più bello se lei li avesse invitati a casa sua, cioè, nel senso, guardate, venite tutti a casa mia, tu lavori, una volta finito di lavorare, stacchi, vieni a casa mia, sono io che ti preparo tutto, ti siedi e ti rilassi un attimo, ecco, però io non so le dinamiche che l'hanno portati a scegliere invece questo metodo, può essere che i cognati non si volevano, non si volessero muovere, io adesso non lo so, cioè, noi facciamo ipotesi e diamo consigli, però alla fin fine non sappiamo nulla di quelle che sono le dinamiche, per cui i nostri consigli e le nostre, il nostro parlare, fra virgolette, lascia poi un po' il tempo che trova. e niente, questo era quanto, io spero che questo audio vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto un pochino, se volete lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al mio canale, e niente, lasciatemi dei commenti, scusate se sembra che abbia parlato un po' così, ma un po' di mal di gola, insomma, ma di questi periodi è normale, direi. Ciao a tutti, un grosso bacio e a presto.